E' venerdì 2 giugno, buongiorno e buona festa della Repubblica, prima edizione del nostro telegiornale, questa mattina in regia Gianfrancesco Iacaruso. Sono ancora diverse le inchieste sulla gestione della pandemia in Molise, per una di queste la Procura ha nuovamente chiesto l'archiviazione e i familiari delle vittime. Si sono posti, sarà ora il giudice a decidere. Intanto proprio i parenti delle persone decedute durante la pandemia, insieme al loro avvocato Enzo Iacovino, fanno sentire la propria voce. Non vogliamo cercare un colpevole a tutti i costi, dicono, ma solo che la verità venga a galla. Il servizio è di Enzo Luongo. Il giudice dovrà pronunciarsi a breve. Il Comitato dei Familiari delle Vittime del Covid si è opposto anche alla nuova richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura per una delle inchieste sulla gestione della pandemia in regione. In attesa del verdetto, i parenti delle tante persone morte nel momento più tragico dell'emergenza e il loro avvocato Enzo Iacovino spiegano che con le denunce non vogliono cercare un colpevole a tutti i costi, ma solo che la verità venga a galla. Noi stiamo cercando la verità dei fatti. Vogliamo capire perché nella regione Molise ci sono stati 800 morti, perché in un ospedale come quello di Cardarelli, che è stato utilizzato impropriamente come centro Covid, si siano potute verificare dei cluster e quindi delle pandemie colpose, cose che noi abbiamo preannunciato in termini di responsabilità. Ma per di più vorrei ricordare che se ci sono delle indagini oggi è solo grazie alle nostre denunce. Qui c'è poco da cincischiare nel manico, perché se delle indagini oggi ci sono e grazie alle denunce di queste persone, dei familiari delle persone che sono decedute e che oggi stanno chiedendo semplicemente la verità ed è quello che noi vogliamo. Il resto sono chiacchiere. Chiedere in Italia la verità è diventata una colpa. Questa è una cosa che veramente ci lascia stupefatti. Il Comitato vuole semplicemente capire che cosa è successo. Cioè ma lo stiamo ripetendo da quasi tre anni. Non vogliamo il colpevole a tutti i costi. Però ci sono degli elementi che ci lasciano pensare che effettivamente qualcosa non ha funzionato o forse molte cose non hanno funzionato. Quindi è d'obbligo per la legge in uno stato di diritto sapere che cosa è successo. Se non c'è il colpevole va bene, ma se c'è è giusto che venga fuori. Veniamo accusati di terrorismo, di infondere ansia, terrore. Cioè ma assolutamente. Cioè siamo persone pacifiche alle quali interessa sapere solo che cosa è successo ai propri familiari. Tutto qui. Il Comitato No Lotto Zero ha illustrato in conferenza stampa Isernia i contenuti dell'opposizione alla richiesta di archiviazione relativa all'inchiesta sul tratto stradale. La realizzazione dell'opera avrebbe un impatto ambientale devastante, hanno detto gli esponenti del gruppo. Sentiamo Enrico De Simone. Riflettori nuovamente accesi sull'otto zero, il tratto di collegamento tra il lotto uno della variante Isernia-Castel di Sangro e il bivio di Pesche sulla statale 17. In conferenza stampa all'ex lavatoio di Isernia, il Comitato contro la realizzazione dell'opera ha illustrato i contenuti dell'opposizione alla richiesta di archiviazione al GIP del Tribunale di Campobasso relativa all'inchiesta sul tratto stradale. Inchiesta aperta dai ricorsi presentati dall'Associazione Caponnetto e dal Partito Comunista dei Lavoratori del Molise a spiegare le motivazioni dell'opposizione l'avvocato Alfonso Mainelli. I pubblici ministeri non hanno verificato, gli è sfuggito, che questo obbligo di una valutazione della cosiddetta opzione zero, cioè quale contesto si determina in caso di non realizzazione dell'opera, è previsto non solo dalla legge ma è previsto anche da un contratto, uno specifico contratto che il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha con ANAS. Il Ministero quando assegna un lavoro ad ANAS lo fa con uno specifico contratto. Ora, questo contratto è stipulato in conformità a un modello generale predisposto dal Ministero delle Finanze e dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Il contratto generale prevede che ovviamente ANAS quando realizza o propone progetti debba redigere una ACB, cosiddetta ACB analisi costi benefici e questa analisi costi benefici deve essere redatta tenendo in considerazione entrambi i contesti, ad opera realizzata o ad opera non realizzata. Quindi c'è una doppia violazione di legge, una doppia nullità, il Ministero non poteva far passare questo contratto. L'opera non va realizzata avrebbe un devastante impatto ambientale, hanno detto gli esponenti del Comitato 980. Riteniamo che non essendoci stata la valutazione dell'opzione 0, non essendoci il progetto definitivo approvato dal Comune ed essendoci stati dei gravi danni ambientali con la devastazione di tutto il patrimonio arborio della valle, si siano già consumate delle ipotesi di reato. Andremo a deturpare con la realizzazione di questa opera un'area territoriale che è al monte delle sorgenti del fiume Sordo, mettendo in pericolo la captazione stessa delle acque che alimentano l'acquedotto appunto del Comune di Sernia. Presente all'incontro anche il Sindaco Piero Castrataro che ha definito il Lotto 0 un'opera inutile, dal Comitato la richiesta al Comune di bloccarne la realizzazione. Bene, è tutto per l'informazione, passiamo adesso alla rassegna stampa. Apriamo la rassegna stampa con le pagine locali e diamo subito uno sguardo a primo piano Molise. Regionali, settimana in sordina, si entra nel vivo, questo è il titolo di apertura che fa a primo piano questa mattina. Sanità, infrastrutture, i temi della campagna partita a rilento, domani la convention di Roberti, lunedì arriva Donzelli, attesi Schlein e Conte. Ieri in tribunale a Campobasso il sorteggio per i presidenti e liste. Ecco come sarà la scheda elettorale, scrive primo piano, rimandando poi alle pagine interne. Vediamo le altre notizie. Il Tar accoglie il ricorso delle mamme, piano della qualità dell'aria da rifare. I magistrati hanno annullato il piano limitatamente alla zona di Venafro. Vediamo adesso le altre notizie. Una circolare della Prefettura, comunicazione istituzionale sospesa, la Prefettura richiama all'ordine i candidati. Turismo, previsioni record, Molise al primo posto. Per arrivi e presenze, maltempo, bomba d'acqua sulla Fresiglia, un fiume di fango tra Frosolone e Casal Ciprano. Poi la cronaca da Trivento, scomparso dal 24 maggio, ancora nessuna traccia di Emiliano Civico da Campobasso. La giudiziaria, omicidio mica trotta, l'imputato alla corte, il coltello non era mio, mi hanno aggredito. Andiamo a Guardia Alfiera. È una delle poche porte sante al mondo. Aperta ieri mattina, fino a oggi, l'indulgenza plenaria. In taglio alto, invece, su primo piano, le notizie sportive. Campobasso si lavora per definire il ritiro. La sede più probabile è Frosolone. I Sernia, tutti allo stadio. Tifosi, società e squadra vogliono fare l'impresa. Basket, altro rinforzo. Per la Magnolia c'è la Slovacca Miroslava Mistinova. E lasciamo l'informazione locale. Andiamo adesso a vedere le prime pagine dei quotidiani nazionali. Apriamo con il Corriere della Sera che in apertura ha lefferato delitto di Senago. Confessa il killer di Giulia, scrive il Corriere della Sera. Il racconto shock voleva bruciarla. Poliziotta uccisa da un collega a Roma, un altro femminicidio, i delitti. La ragazza era incinta al settimo mese, aveva scoperto il tradimento del barman. Andiamo in taglio alto, dove si parla della vicenda che riguarda Governo e Corte dei Conti. Giudici, i controlli accelerano il PNRR, ma passa la norma sui limiti alla Corte. Lasciamo il Corriere, passiamo alla prima pagina di Repubblica. L'Italia alla Orban, scrive in apertura. Repubblica, strategia di governo. Corte dei Conti, RAI, Quirinale, Parlamento, attacco al sistema di controlli costituzionali con un obiettivo, uno strapotere della maggioranza, costruito sul modello ungherese. L'ultimo blizzo, un emendamento al decreto pubblica amministrazione per stravolgere la governance della difesa. Il ministro Schillaci dice che nei nostri ospedali, quindi cambiamo argomento, passiamo alla sanità, ci saranno infermieri indiani. Poi di spalla si parla dei delitti degli ultimi giorni, i femminicidi, doveva sparire, così è morta Giulia. La confessione shock di Impagnatiello, il fidanzato killer, ha cercato di bruciare il corpo della compagna incinta e lo ha tenuto nascosto tre giorni nel box auto. Andiamo avanti con il fatto quotidiano. Il campo largo del PNRR armato, scrive il quotidiano diretto da Marco Travaglio. Ammucchiata bellicista, destra e PD con dissensi. votano sì in Europa, no da Movimento 5 Stelle e sinistre. Armi, ora Crosetto vuole una corsia preferenziale. Andiamo avanti con la nostra rassegna stampa. Passiamo al Libero che dà dello stesso argomento delle armi una lettura diversa. Il giorno delle Eurosberle, il PD esplode sulle armi, il Parlamento di Bruxelles, si lura la mozione Dem per limitare gli aiuti a Kiev. Tra i deputati della Schlein, 10 votano contro la linea della segretaria. Ellie è pronta per la pensione, scrive Libero. Poi si cambia, si va sulla Premier, la Meloni da lavoro a 52 mila donne, senza quote rosa. Centropagina la fotonotizia sul delitto di Senago, incredibile confessione del killer, l'ha uccisa per liberarsi. Andiamo avanti e passiamo al manifesto. Riarmo e resilienza, questo è il titolo principale. L'Europarlamento vota a larga maggioranza l'utilizzo dei fondi del PNRR per produrre armi. Schlein tenta di smarcarsi, il PD si spacca e chiede al governo di non utilizzarli. Il Dem Bartolo si astiene, con altri tre. L'Unione Europea ritrovi se stessa e lavori per la pace. La stampa di Torino, l'Italia acceleri su PNRR e MES. Gentiloni, commissario dell'Unione Europea, dice la Corte dei Conti, non è Bruxelles che controlla eventuali frodi. Vienna limita l'accesso ai nostri camion, code di 50 km al Brennero. Salvini dice intervenga l'Europa, solidarietà tedesca. Restiamo sempre sulla stampa di Torino a centropagina. Una foto che ritrae purtroppo Giulia, la donna uccisa a Senago. Giulia, un orrore premeditato, incinta di sette mesi, uccisa, accoltellata dal fidanzato che poi ha chiamato l'amante. Sono libero. Di spalla una notizia, una foto che arriva dall'Ucraina, molto toccante, quel nonno di Kiev piegato sulla nipote dilaniata a otto anni. Il pezzo è firmato da Domenico Quirico. Lasciamo la stampa e passiamo al quotidiano romano, il tempo. Schlein kamikaze, questo è il titolo di apertura, PD spaccato a Bruxelles, partito diviso anche sull'aumento della produzione di armi da fornire a Kiev. Otto sì, un no e sei astenuti. Azione Italia Viva, dicono, sono in confusione totale. All'Unione Europea scontro a sinistra, pure sul termine democratici. Molti vorrebbero cancellarlo. Poi a centro pagina una fotonotizia che ci mostra l'ex ministro degli esteri Luigi Di Maio. Di Maio, al primo giorno del Golfo, pubblica tweet in arabo e persiano. Andiamo adesso alla prima pagina dell'avvenire. Pace e armi che dividono, scrive in apertura il quotidiano della conferenza episcopale italiana. Mattarella con l'Ucraina per una soluzione giusta. L'Europarlamento approva l'utilizzo del PNRR per le munizioni. Sì del centro-destra, il PD si spacca. No da Movimento 5 Stelle sinistra e fa discutere il via libera all'export verso l'Arabia Saudita. Meloni in Moldavia, riafferma il sostegno a Kiev. Ancora colpita la capitale, morti due bambini. Zelensky ringrazia Papa Francesco. Andiamo a centro pagina, dove si parla del delitto di Senago, Giulia e Tiago, il male e lo strazio. Tiago era il bambino che questa povera ragazza portava in grembo. Passiamo adesso all'informazione economica con il Sole 24 Ore. Lavoro occupati oltre i 23 milioni, più donne, più contratti stabili, scrive in Apertura il quotidiano di Confindustria. Sono dati dell'Istat. Ad aprile, quinto aumento consecutivo, 74 mila rapporti full-time in più. Il tasso di disoccupazione al 7-8%, 52 mila donne in più, 4 mila uomini in meno. Lasciamo l'economia e passiamo adesso allo sport con la prima pagina della Gazzetta, che questa mattina parla in apertura del Milan. Leao firma da 10, rinnova con il Milan e vuole la mitica maglia. è atteso oggi l'annuncio ufficiale. Rafa prolunga il contratto fino al 2028 e prenota il numero dei grandi. Diaz resterebbe, ma il Real chiama. Prima pagina del quotidiano abruzzese. Il centro, la nave dei migranti, rischia il fermo. Ortono oggi sbarcano 49 profughi, ma la ONG avrebbe violato il decreto piante dosi. Questa è la notizia di apertura, centro pagina la fotonotizia. Abruzzo, 27 milioni, per allungare di 43 chilometri la pista ciclabile. Dispalla lo sport, il Pescara vuole la finale per la B, ma affoggia. Sarà senza tifosi, vietata la trasferta di domenica. Andiamo in taglio basso. Viale Marconi protesta per le buche. Pescara, la strada rifatta, è già disastrata. I residenti, basta incidenti e auto rotte. Lasciamo la pagina principale e andiamo adesso a vedere le edizioni locali. Partiamo da quella dedicata al territorio del Teramano, di Spalla. Negozi in crisi, reggono l'urto solo i ristoranti e le estetiste. Teramo, bilancio 2022, poi la cronaca, muore giocando a tennis. Oggi l'ultimo saluto in taglio basso. Nessun progetto antidissesto in città. Teramo, accuse all'amministrazione, non ha sfruttato le opportunità del PNRR. Poi eventi estivi fino a settembre. Teramo, il calendario delle manifestazioni. Lasciamo l'edizione del Teramano e passiamo adesso a dare uno sguardo a quella che riguarda i territori di Chieti-Lanciano. E Vasto, il titolo di apertura è lo stesso sulla nave dei migranti. Di Spalla, invece, ecco Fox, incendio e fumo nero. Paura all'azienda di biocarburanti. È successo a Vasto a Punta Penne. Chieti-Scalo in lutto, addio a Don Mario, fondò la chiesa di San Pio X. In taglio basso, la frana accende lo scontro politico. Chieti-Ilpi, Diecinque Stelle, criticano Marsilio. In Via Granzasso, solo uno spot elettorale. Poi le festività del 2 giugno. Oggi la nomina di 12 cavalieri. Chieti-La Festa della Repubblica. Lasciamo questa edizione e andiamo adesso a vedere quella che riguarda il territorio di L'Aquila, Avezzano e Sulmona. Vediamo la notizia che riguarda l'evento all'Aquila. Musica, show e negozi aperti. Folla in centro alla Notte Bianca. Vediamo poi in taglio basso, attacco hacker. Normalità più vicina. Torna la gestione informatica del pronto soccorso all'Aquila. ad Avezzano e Sulmona. Poi anche qui le onorificenze del 2 giugno. Cerimonia all'Aquila, Sulmona e Nella Marsica. Adesso è la volta della pagina del messaggero dedicata all'Abruzzo. Sì del giudice alle nozze negate. Teramo, lui un camerunense in regime di protezione. Non poteva richiedere i documenti. In patria dopo due anni di attesa una sentenza. supera il no alle pubblicazioni. Lei è stato un colpo di fulmine, dice. Poi a centro pagina la foto. Notizia che arriva da Pescare. Riguarda i minori allontanati dalle famiglie della mafia. Rom, Don Max, dice. Bimbi senza futuro. Questo quartiere è un ghetto di spalla. La notizia che riguarda gli incidenti sul lavoro. Pesanti dati delle morti bianche in Abruzzo. Otto casi nei primi quattro mesi. Aumento del 100% in tre province. Bene, termina qui la nostra rassegna stampa. L'appuntamento è alle ore 14 con il nostro telegiornale. A voi tutti. Buona giornata. Buona giornata. Grazie a tutti.